Era un tipico festino a Torricella, quando... Ragazzi, venite fuori! Dai, Alastra, venite fuori! Ragazzi? Oh mio Dio, oh mio Dio! Salve, sono... Giannico e Crescia, cattolo di Erich e Crescia. E qui ce lo vedete in là. Sono cose veramente strane. E se siete venuti in questo video, non state ascoltando la radio. Vittorio! Vittorio! Pronto! Vittorio! Stai venendo! Stai venendo! Guarda che sta venendo! Stai venendo! Stai venendo! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.